Lo riprovo adesso, va bene, dimmi, adesso dovrei essere in diretta. Scusa, mi hanno detto che ci vorrà qualche ora, perché gli ho chiesto a che punto ero in guasto e chiaramente mi hanno detto, ma le ho detto che la richiamo io quando è tutto a costo, perché comunque hanno verificato il guasto, abbiamo aperto la pratica di guasto ma non è stato ancora risolto, gli ho detto sì, ma io voglio sapere se è una cosa che richiede giorni o richiede solo qualche ora, e loro hanno detto che è un guasto che richiede qualche ora. Bene, bene, allora sarò qui in giardino per qualche ora, che devo fare? Non c'è il suo slide. Beh, sì, può darsi che adesso sia in diretta ancora, perché ti ricordo che ci sarà una trentina di secondi di ritardo. Ok, va bene, ciao. Ciao. Vediamo. Sono offline? Ma? Ho detto che potrebbe essere, potrebbe essere offline oppure no. Però, magari dimmelo Betty se sono tornato. No, io non ti vedo, vedo offline, ho fatto anche tra i video, non c'è. No, sta lì che riprovo. Chiudo.